Una baracca di mi piace su questo video e non appena sarà ufficiale uscirà la video reazione col buon Fabio in stile Godiamo a spruzzo, zonzie del Galatasaray perché non so se vi ricordate quel video, come sa che per come poi è andata, per come ha giocato nella Roma il godiamo a spruzzo è per quando se... Ciao, I dissi sgabbo in bella a tutti e da me buon ferragosto. Buon ferragosto non è uno sfogo su Antonio Cazzaro nonostante io non abbia la maglietta, non ho la maglietta perché fa molto caldo e tra l'altro non sono a casa non so se lo avete capito ma credo che sia abbastanza palese guardando quella che è l'ambientazione medievale e volevo appunto esprimere un mio parere su un zonzie in procinto di lasciare la Roma. Andrà al Galatasaray, c'è una trattativa in corso, ancora non c'è nulla di ufficiale però lui sulla propria pagina Facebook ha pubblicato una foto che lo ritrae con la casacca del Galatasaray quindi evidentemente la sua volontà è quella di andare, non firmerà un bianice basta è menata da Roma e frega anche... quindi va bene. È la formula un po' che mi lascia perplesso perché secondo alcune indiscrezioni potrebbe andare via prestito biennale e poi non so se se parla di diritto o d'obbligo di riscatto perché mi lascia titubante la questione da una parte sì, lo stipendio glielo pagheranno loro, di conseguenza tutti liberi sicuramente di uno stipendio importante a livello economico, però lo hai pagato 30 milioni di euro non è che lo hai pagato 50 euro spicci, quindi secondo me quella che è la volontà di una società cioè quella che dovrebbe essere la volontà di una società è di cercare di monetizzare il più possibile ma proprio perché paradossalmente parlando la scorsa stagione di Inzonzi non è stata all'altezza ovviamente non era facile piazzarlo, quindi eravamo di fronte a due scelte ottenerlo e farlo giocare per non far svalutare ulteriormente il costo del cartellino oppure fare una scelta tecnica e dire lo cedo, provo a farlo giocare altrove, lo cedo in prestito magari le sue prestazioni saliranno nuovamente e quindi riusciremo, non lo so, a faccia almeno 20 milioni di euro se andate a guardare sul Transfer Market il valore attuale di Inzonzi, vi mettete paura, ve lo posso assicurare mi pare che si aggira intorno ai 15 milioni, l'ho visto 10 giorni fa, non credo che sia salito perché non ha fatto niente di che sono curioso anche di sapere il parere del buon Fabio, però c'è da dire che ci sono altre indiscrezioni secondo cui potrebbe partire in prestito, ma non con obbligo, bensì con diritto di riscatto quindi la prossima stagione potremmo trovarcelo nuovamente sul gruppone, ovviamente lo ripeto ancora una volta lo stipendio per una stagione glielo pagano loro anche in quel caso, quindi giacchette liberi di una spesa abbastanza importante, è già qualcosa, però poi dovesse tornarti sul gruppone come fa Gonalon, insomma potrebbe essere poi difficile ripiazzarlo ancora una volta soprattutto dovesse fare una stagione di quelle peggio con chi giochiamo titolari sulla mediana? abbiamo Gonalon ovviamente, giocherà sicuramente con... sto scherzando ci stanno Veretù e Cristante, credo che siano quelle le alternative, non ce ne sono altre? ci sta Cioric, chi cazzo altro ci sta? se te ci puoi inventare Pellegrini, vuole... non lo so, forse dobbiamo poi intervenire sul mercato qualora partirà per prendere qualche altra... che cazzo... mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al mio canale qualora non lo aveste ancora fatto, attivate la campanella a fianco al tasto iscriviti per non perdervi alcun mio nuovo contenuto, non ci più ho parlato, ho dormito veramente poco poi tra l'altro c'ho una spallina del letto che mi copriva il televisore quindi non ho visto per chi ha seguito le storie su Instagram insomma una notte di quelle un po' iscrivetevi al mio canale, seguitemi su Instagram e Telegram non lascio niente in descrizione Gaboman7 cercate Gaboman7 su Telegram, Gaboman7 su Instagram mi trovate senza troppi problemi e... ma... vediamo quello che succederà perché la Roma ancora deve comprare un difensore centrale c'è la gran attaccante Edinge, non si sa quello che potrebbe fa potrebbe partire, potrebbe alla fine andare all'Inter perché la volontà sua è quella noi però stiamo cercando di trattenerla a tutti i costi perché non troviamo una valida alternativa stamattina ho letto la notizia che Icardi potrebbe andare a Napoli Milik potrebbe venire alla Roma Dzeko potrebbe andare a Lenn... non lo so, non lo so perché poi ogni giorno diciamo che il mistero si infittisce e la telenovela continua quindi non so che dirvi però sta per cominciare il campionato, manca poco e noi dobbiamo ancora puntellare la rosa ci manca appunto qualche giocatore importante non dico che Zonzi sia un giocatore importante ma comunque andava a fare numero e magari, che ne so, col nuovo allenatore avrebbe potuto fare qualcosa di... evidentemente no, perché se no Fonseca diceva no, lo trattengo invece che mandarlo via oppure probabilmente è lui che per come si è trovato, per come è stato trattato tra virgolette dalla tifoseria diciamo che la sua volontà potrebbe essere quella di andassene via a prescindere, io mi ricordo quel gol che ci ha fatto Piacor Milan abbiamo perso 2-1 all'ultimo chi segnò? Cutrone o Higuain? L'assist lo fece Cutrone e segnò Higuain o viceversa? Non lo ricordo mai Mesac ha segnato Cutrone ma comunque... no, Mesac ha segnato Higuain fatemi sapere la vostra nei commenti e ripeto, tantissimi mi piace una volta che diventerà ufficiale godiamo a Spruzzo, Zonzi è del Galatasaray penso che c'è sta tutto col senote poi è facile parlare ragazzi ma quando è arrivato dal Siviglia per quel che lo abbiamo pagato e per quel che faceva vedere a Siviglia sicuramente era un giocatore importante erano alte le aspettative le ha deluse totalmente perché c'è stata quest'anno una partita decente forse la partita di Addio de De Rossi che era l'ultima di campionato unica partita decente per il resto non mi ricordo prestazioni all'altezza del campione del mondo mi direte che è campione del mondo ha giocato mezza partita sempre campione del mondo è sempre esperienza internazionale già ha vinto comunque con Siviglia un sacco di trofei quindi che ve devo dire vabbè ritorno all'ultima riflessione e poi chiudo il video un giocatore che va da una squadra all'altra c'è lo stato psicologico c'è l'ambientamento può essere forte quanto ti pare? ma è la capoccia che fa la differenza evidentemente a livello psicologico non è forte non riesce a sopportare le critiche quindi poi non è Ibrahimovic insomma parlamoci chiaro che lo insultano e gioca ancora meglio un vero campione lo si vede anche da questo ma guarda Vargara da Sarai e fu così che non si divenne un fenomeno 270 milioni diritto di riscatto a 8 milioni di euro se lo prendono e poi se lo rivendono a Barcellona ma tanto succede a noi proprio inculate stanno sempre dietro l'angolo non vi rompo le palle più di così bella a tutti grazie a tutti